Un grandissimo saluto alle amiche e agli amici di Bacco per Bacco Italia e praticamente il prossimo 24-25 ottobre finalmente andremo a regalarci, a goderci un nuovo bellissimo viaggio formato Bacco per Unione. Infatti andremo in una delle zone più interessanti dal profilo gastronomico con le sue grandissime privatezze, le grandissime perle del Made in Italy. Infatti saremo in Emilia, nella provincia di Parma, a Reggio Emilia e quindi sarà una grandissima Bacco Reggiano Emilia con risalto soprattutto a dei prodotti tipici d'op come il Bacco Reggiano Reggiano. Andremo a conoscere i vini delle zone sia Reggiane che Parmenti e soprattutto andremo anche a conoscere e ad innamorarci delle città italienzionali. Dopodiché chiaramente la cuscina sarà il punto forte del viaggio e sarà veramente un grandissimo viaggio. Quindi sarà anche l'occasione per festeggiare, diciamo, e per rivedersi e dare un bellissimo segnale di ripartenza sotto il profilo della socialità. Quindi entro fine settembre ho appunto il programma dettagliato e quindi voi seguiteci. Cari e cari amici di Bacco e Bacco Italia e ci vediamo in Emilia per la prossima Bacco Reunione. 24-25 ottobre, gustando i grandissimi prodotti emiliani di Parma e Reggio Emilia. Bacco Reunione Parma, Bacco Reunione Emilia. Un abbraccione e ci vediamo in Emilia. Ciao! 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 Grazie per la visione!